Buongiorno a tutti, il video lo vedrete come sempre domani mattina, c'è giovedì mattina, lo sto facendo adesso che siamo intorno all'una e mezza, più o meno, una o una e mezza. Dobbiamo parlare giustamente della Coppa Italia. Quindi Coppa Italia di stasera, come al solito, figurati se ci prendo. Ho detto che probabilmente poteva vincere il Milan vedendo un po' le formazioni, invece diciamo che ha giocato un attimino meglio la Lazio, però volendo poteva vincere il Milan perché il gol che si è mangiato c'è alla Noglu è abbastanza da io, proprio io e Gidio Calloni perché colpo di testa, parata del portiere, lui è lì in una posizione abbastanza centrale davanti alla porta, tra il dischetto del rigore e l'area piccola, proprio in quel punto lì, gli arriva un pallone anche abbastanza semplice, l'ha preso al volo e l'ha mandato sopra la traversa, con la porta praticamente spalancata. Io quando ho visto la deviazione, lui che la controllava, ho detto questo è gol. Invece l'ha mandata alle stelle, però effettivamente la Lazio ha giocato un attimino meglio, è stata più pericolosa. interessante la posizione di Borini-Tersino, francamente, io sentivo i milanisti mai più Borini-Tersino, però vedendo la partita, vedendo le chiusure che ha fatto, spesso e volentieri sei immuolato peggio che un difensore centrale, devo dire che ha combattuto bene, si è dato da fare, eccetera, non è la sua posizione perché tendenzialmente lui è un esterno di attacco, ho una seconda punta, però devo dire che il suo l'ha fatto. Poi i milanisti hanno detto mai più Terzino, quindi mi fido di loro che seguono molto più di me la loro squadra, giustamente. Io seguo i cuginetti nerazzurri, però stasera c'era il milan, quindi come vi dicevo il mio canale, naturalmente parlerò di Inter, ma parlo di tutto, non l'ho voluto fare come già detto monotematico, come hanno fatto tanti, il mio canale parla di un po' di tutto, principalmente di sport, ma avrete visto chi ha la fortuna di vederli o la sfortuna di vederli, faccio video un po' su tutto. Quindi Milan-Lazio stasera 0-0, milanisti un po' preoccupati perché sai 0-0 è sempre un risultato che non ti dà grandi garanzie per il ritorno, però lascia aperto comunque tante possibilità, tenete conto che il Milan purtroppo per noi con uno 0-0 è riuscito ad arrivare in una finale importante dopo uno 0-0 in casa, quindi non diamo nulla per scontato, certo se quel gol di Chalhanoglu entrava, diciamo che le loro chance di arrivare in finale teoricamente contro la Juve, ma non lo do per scontato neanche questo, perché attenzione perché l'Atalanta è andata a vincere 2-1 con Napoli, quindi una Juve che non è concentrata, rischierebbe comunque lo stesso di uscire. Ricordiamoci che non mi ricordo se l'anno scorso o due anni fa in Coppa Italia, la Juve dopo un 3-0 contro di noi, al ritorno nonostante eravamo in emergenza con una difesa con D'Ambrosio e Ranocchia centrali, gli abbiamo reso il 3-0 e sono passati solo ai calci di rigore, quindi non diamo nulla per scontato, quindi Milan-Lazio 0-0, partita ancora apertissima, ritorno che dovrebbero giocarsi tutte e due a fine febbraio, quindi tra meno di un mese, 28 giorni più o meno, perché febbraio ne ha appunto 28, quindi 4 settimane c'è già il ritorno, e credo che ne vedremo ancora delle belle. Bella partita comunque, io ho detto gol, invece Nisba, ma ve l'ho detto, se io dico una cosa succede quasi sempre il contrario, quindi non prendetemi sempre con beneficio di inventario quando faccio i pronostici, perché a volte ci prendo, ma spesso succede la cosa opposta. Domani qua ho l'elenco, c'è qua l'elenco del calciomercato con tutti i movimenti di tutte le squadre, quindi domani farò un lungo video con il resoconto, devo dire che si sono mosse molto di più le medio-piccole, ma ne parliamo domani. Bene, vi saluto, vi ringrazio, come dicevo il video è molto corto, perché tanto c'era da parlare solo di quelle due partite lì, della partita di stasera, rimembrare quella di martedì, quindi video veloce, così almeno magari qualcuno lo guarderà in più. Vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo alla prossima, che è appunto giovedì, nella giornata che parleremo di mercato. Ciao! Ciao!